I congressi del Popolo delle Libertà per ora consacrano la vittoria dell'ex ministro Raffaele Fitto. La sua mozione conquista Bari con il 66,5% delle preferenze e la BAT, dove però la strada era più uniforme. E' attesa quindi per gli esiti dei congressi del Salento. Il prossimo fine settimana sarà la volta di Lecce Brindisi. Nella prima sfida i fittiani, come noto, porteranno avanti la candidatura del presidente della provincia Antonio Gabellone. Mentre a tentare la scalata per i mantovaniani ci penserà il consigliere regionale Erio Congedo. Una sfida per nulla semplice come non lo è la situazione a Brindisi, dove lo scontro non è solo sul candidato ma anche sulla sede scelta per celebrare il congresso. Non va proprio giù infatti a Nuova Italia la corrente che fa capo a Mantovano la scelta di Carovigno. Uno schiaffa al PDL Brindisino, dicono, che femergera ancora una volta una frazione tra il capoluogo e la provincia già scoppiata in passato. Da Nuova Italia reputano la scelta di Carovigno una volontà precisa di Luigi Vitali per poter attrarre più votanti grazie al numero dei tesserati che riesce a contare. Quanto alla leadership, indipendentemente dal luogo, se la contenderanno lo stesso Vitali, coordinatore uscente, Fittiano, e Luca De Netto, Mantovaniano, che ha presentato tra l'altro una mozione interna per incentivare il dialogo nel partito e respingere eventuali future decisioni verticistiche. A supportare Vitali però sembrerebbe ormai pronto Vittorio Zizza in quota Puglia prima di tutto, che ha aumentato le sue quotazioni negli ultimi mesi. Ma le tensioni del congresso provinciale si ripercuotono inevitabilmente anche sulle amministrative. La doppia candidatura alle primarie di Dattis e Ciullo ha registrato scintille. Vitali infatti via Facebook ha esortato Ciullo ad un passo indietro per evitare a scritto la sua morte politica. E la risposta non è tardata. Ciullo ha bollato le dichiarazioni come messaggi paramafiosi. Sarà a Taranto a chiudere il giro dei congressi il 25 e il 26 febbraio, prima dell'arrivo a Bari del coordinatore nazionale Angelino Alfano. Non è escluso che i mantovaniani possano presentare una propria mozione fatta dall'ex consigliere Salinari, l'ex senatore Semeraro e il sindaco di Manduria Tomasino. Ma stando ad oggi ed ambira la leadership sono l'uscente Pietro Lo Spinuso e i due consiglieri regionali Sale e Chiarelli. Uno scontro tutto interno all'aria fitto, anche se nelle ultime ore è emerso che proprio grazie alla mediazione dell'ex ministro si possa riuscire a convergere in un'unica mozione unitaria che vedrebbe la riconferma di Lo Spinuso. Solo dopo ci sarà l'ultima sfida, quella per la segreteria regionale.